Lui è l'inventore di Gino Paoli del gruppo Morgan, signori, un grande applauso Che cosa sono io, vede qua Allora Morgan, non litigare col pubblico Attorno dai negra mano, cosa vuoi qua Lascia stare il pubblico, vieni qui Cosa volete, sì Morgan, con calma, senza polenche Di chi è il matrimonio qua? Non è il matrimonio, è l'orchestra del maestro Stefano Palatresi Cosa, il castello del cerimonio è qua? Sì, no, allora, deve stare calmo Ancora lui, come si chiama questo qua? Stefano Palatresi Che è? Che riga è? Il nome d'arte Palatresi Cioè, si è montato la testa? Perché? Palatresi, com'è? Pala, ma che lo so, palalgida, palavigua No, non è un palaspolto Ma non è un palaspolto Il nome Tu devi cominciare dal basso, come fanno tutti Non ti montare la testa Devi riempire, prima le palere Si calmi A parte che lei da dietro sembra Miranda del diavolo veste fata Ehi, forse Ehi, forse Ehi, forse Cosa ridi tu? E' vero Sto scherzando, Morgan, perdoni No, stia calmo Scherza, per una battuta Qua manca l'umiltà in questo posto Non posso dire, manca l'umiltà questo qua Perché? Sì, perché bisogna partire dal basso, dalla gavetta Eh sì, l'abbiamo fatta tutti No, poi non lo fate voi No, noi sì Armstrong Sì Come si facciamo a chiamare da giovane? Satchmo No, Carlo Conti Ma perché Carlo Conti? Ma cosa dice? Come si chiama quella canzone che fa? E cin, sei, set, otto Tutte le canzoni parlano così Esatto Allora, Morgan, parliamo di cultura con Elisabetta Scusa, ma cosa vuoi tu? Ma calmati Tu l'hai mai prestato un sintetizzatore a Chopin? Io sì Ma come hai fatto a prestare un sintetizzatore a Chopin? C'è Elisabetta, Morgan, vuole parlare con lui C'è Elisabetta Ma non è Pino Scotto? Ma che Pino Scotto? Ma che ti sta dicendo? Mamma mia Ozzy Osbourne Ma che Ozzy Osbourne? Oh, però, da vicino si è brisola Foer Avete finito qua? Ti devo dire cosa portate perché posso dire? Posso parlare? Sì, sì Perché ci dobbiamo appassare? Perché l'arte è sottoterra 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 Fai Addirittura Sì, capite, eravamo nel camerino Sì Nel programma di quello Come si chiama quello che fa le cose allegre Dove ci si diverte tantissimo Chi è? Chi è? Come si chiama? Ma sono dai due Si parla solo di tragedie Eh, l'arte è morta, no? Ma come l'arte è morta? Eravamo io, Elisabetta Sì Va bene E Pink Floyd Pink Floyd, da Milo Infante Da Milo Infante La storia di Leeds Taylor Sì Si chiama ovunque Ti rendi conto la storia di Leeds Taylor Non è che vaga i programmi così Ma è un falò questo Il gioco della bottiglia 15 agosto Elisabetta, sei riuscita con una cosa importantissima Cosa? Cosa ha detto? La tabellina del due No, sei riuscito con una cosa diversa Ma dove va? Ma non benissimo Ah, la musica Ci fa ascoltare la musica La cultura, vedi? Lo posso fare il pezzo grasso Perché? Ma Morgan Senti l'uomo a come entra Senti il dittatore Morgan Ma che dirigi? Il basso Ma la parte è che non sta dirigendo lei l'orchestra, d'accordo? Mozart, dieci anni di flauto prima di fare questa cosa qua Dieci anni di flauto? Sì, alle mele Sì Vieni qua Non è musica classica E' un videogioco Super Mario Esatto Cosa dice così? Non è? Eh? E questa cosa è stata scritta dai fratelli Luigi e Mario Esatto Facevano gli idraulici e poi ci sono messi a fare questa cosa qua Poi dopo saltavano sui funghi così Loro saltavano sui funghi ma tu te li prendevi Eh, Ross Che scemo Me ne vado maestro Non ci sto qua, questo non scempio Vado via Dove vai? Vado via, più che tosto che stare qua Vado a fare le orecchiette a linea blu Non lo faccio Leone Artofiaschi Lascia in pace Lascia stare il pubblico E' quella che urla Lui urla sempre Sempre in polemica